Scusi, ma perché vuole spaccare lui? Perché si fuori? Che ha detto? Ha detto perché si? Non mi pare una risposta contigente. Che sta succedendo qui? Che sta succedendo qui? Che sta succedendo qui? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che sta succedendo qui? Ma che diavolo succede? C'è il tuo fratello? 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 C'è il tuo fratello?